La ricerca della felicità è una ricerca che occupa tutta la vita, ma noi la risposta ce l'abbiamo ed è Dio, cioè trovare in Lui la risposta al senso della nostra vita. Questa è una ricerca che richiede tutta la vita perché non è un qualche cosa che si acquisisce una volta per sempre, non è che anche uno facendo una scelta di vita religiosa può pensare di trovare la felicità. La felicità si trova in una persona che è Dio, in una relazione che va maturata, cresciuta di giorno in giorno. Ma la sua passione dal computer da dove nasce? Nasce da quello che facevo precedentemente, dal lavoro che facevo precedentemente. Sono entrati in monastero chiedendo di portare un computer portatile che usavo sul lavoro e da allora è nata, da cosa nasce cosa, è diventato un po' la passione che mi accompagna accanto alla preghiera e agli altri servizi che la comunità mi chiede. Ed è un servizio anche che io faccio volentieri perché mi mette in contatto e attraverso di me tutta la comunità con il mondo giovanile che mi sta molto a cuore. La grata elettronica dunque è un indirizzo mail, quindi ancora una volta carta e penna per segnarvi l'indirizzo della grata elettronica di Sornella Letizia che vediamo sempre nella home page di Giovani.org Nella Letizia Chiocciola Giovani.org Eccola qui e adesso andando a cliccare si aprirebbe praticamente l'outlook quindi Nella Letizia Chiocciola Giovani.org Sornella, da una clausura di Rimini che cosa le viene da dire ai militari italiani che sono in queste operazioni all'estero? Io sono una figlia di Francesco D'Assisi Francesco è stato un portatore di pace è andato anche nella terra santa proprio nel campo di battaglia durante le crociate per predicare la pace quindi dove si porta la pace si porta il messaggio cristiano e dove si porta il messaggio cristiano c'è Cristo, c'è la persona di Cristo quindi sono molto vicina a tutti coloro che tutti i nostri militari tutti gli altri militari che si spendono per la pace nel mondo c'è bisogno anche di chi con le armi porti questa pace per custodirla soprattutto non per fare fuoco ma Francesco ci insegni a tessere queste relazioni quindi credo sia vicino a tutti i militari che è una figura cara a tutti gli italiani ma penso a chi è come i nostri militari in questo momento in Libano sentiranno vicino questa figura grande di questo santo della pace Sornella, l'hai mai capitato tra le persone che vi hanno scritto anche di un militare? una omele di un militare che ha chiesto alla vostra preghiera e al vostro sostegno non so, un consiglio, un aiuto? no, non mi viene in mente, credo di no no, credo di no e allora Tenente Colonnello, lei deve far conoscere ai suoi militari la grata elettronica di Sornella? certo, certo, farò il portavoce anche in questo senso qui quindi carta e penna pure lei Tenente Colonnello si segni nella Letizia Chiocciola Giovani.org già fatto? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti